Complimenti a Vistoria che ha fatto una bella partita, soprattutto una bella partita, con un momento di colore in generale, in particolare, tutt'altro l'attretismo dei produttori, di produttività e dell'arbitra. Noi siamo, in questo momento della stagione, siamo i campionieri in mani, siamo quelli che, siamo quelli che, come in giro, siamo in ferro, diciamo, abbiamo bisogno di un pari trattori, per cominciare a muovere la nostra squadra, è una squadra grande e grossa, in questo momento è pesante e duro. È pesante dal punto di vista fisico di tanti giocatori e qualcuno, soprattutto quelli nuovi, se qualcuno ancora si sta chiedendo, devo tirare, devo passare, devo andare in piano, devo andare in veloce, quindi alla fine siamo abbastanza brutti. Quindi questo, diciamo, è solo una piccola parte, il grosso l'hanno fatto loro e l'hanno fatto molto bene. Poi il soggetto che non abbiamo fatto la messa per la Scarlagna neanche nel secondo tempo, quando abbiamo costruito molto buoni tiri, per tirare, si riesce a tirare tutto il secondo tempo, credo, un bel vantaggio sul difensore, non abbiamo messo mai, 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 mai. Mentre il primo tempo era stato, parlo dei miei ovviamente, sicuro, il primo è stato sinceramente inquietante, nel secondo è stato di tutto il secondo tempo, però almeno abbiamo provato a fare le cose che dovremmo fare quando vengiamo un po' più fresche e avresti un po' più felici.